Le chiavi più fortunate del mondo finiscono nella scollatura di questa bella bionda e tocca a voi recuperare la merce senza passare da maniaci. Guardate le nostre vittime, come iniziano a ravanare lì in mezzo! Signori, ricordatevi che si tratta di roba preziosa, chiaro? Sì, perché noi quelle chiavi, quella volta, le abbiamo proprio incollate al reggiseno della ragazza e bisogna avere un po' di esperienza da quelle parti, diciamo. E poi attenti a farlo con la ragazza nei dintorni, perché guardate che succede, vedete? Ma che botta! Beh, però complimenti, eh! Non vedo grande professionalità da quelle parti, eh! Non vedo neanche facce tanto abituate a mettere le mani in quei posti, a dire la verità! Eh, vabbè! Attenzione, anche lei col maglioncino rosso! Ecco, bravissimo! Perfetto! Qui addirittura in due, ma dai, ma lasciate perdere! Mo smettetela! Guardate, questi addirittura litigano! Vedete? Le aprono addirittura la macchina, servizio completo! Adesso il migliore, il più elegante, guardate, mani di velluto, bravo nonno! Bravissimo!